Arriva una vittoria importante in ottica salvezza, sei a tre su Piazza Armerina, come valuti complessivamente la prestazione della squadra? Una buonissima prestazione, il primo tempo loro ci hanno dato fila da torcere, però con intensità e voglia di prendere i tre punti l'abbiamo portata a casa, che era molto importante. Hai avuto tanti minuti nel secondo tempo, hai trovato anche il tuo primo gol in Serie A2, forse l'avevi trovato qualche minuto prima con quel pallone che ha toccato la linea, ti chiedo in generale le emozioni per questo gol e comunque per aver giocato una buona gara. Molto emozionante, soprattutto giocare in casa, non l'avevo mai provato, gol sono contento, soprattutto se posso aver dato una mano alla squadra, ringrazio tutti quelli che mi hanno supportato fino adesso e ringrazio anche il mister, anche per la fiducia di avermi fatto entrare. Mancano poche partite alla fine del campionato, cosa serve per ottenere questa salvezza? Serve sicuramente intensità e la voglia di portarle tutte a casa e penso che questo ce l'abbiamo, lo si vede già dall'allenamento. Tre punti erano quelli che servivano, tre punti sono arrivati, in una partita in cui avete praticamente gestito sempre il palino del gioco, avete dettato il ritmo, forse soltanto gli ultimi due minuti vi siete un attimo rilassati. E questo è il neo di questa stagione, direi. Ha risultato acquisito, tendiamo sempre a calare di concentrazione, oggi abbiamo trovato un avversario in disarmo, ok, però bisognerà fare attenzione fino all'ultimo secondo nelle prossime partite perché non ci possiamo permettere cali di concentrazione. Ci sono ancora tre partite da giocare, fare calcolo è inutile, bisogna provare a prendere il massimo possibile, ti chiedo se ci credi ovviamente sì, ti chiedo invece quale sarà il fattore che può essere determinante in queste partite? Ecco, come ho detto ai ragazzi, adesso noi possiamo costruire tatticamente, tecnicamente qualcosa di diverso da quello che abbiamo impiantato all'inizio dell'anno, è solo una questione di testa, ma penso lo sia stato anche nelle partite precedenti. Adesso è solo la testa che ci potrà dare quella giusta concentrazione per dare fluidità alla manovra che poi è quello che costruiamo dall'inizio dell'anno, quindi secondo me è più una questione di testa che una questione tecnico-tattica. Nel secondo tempo hai avuto la possibilità anche di far giocare minuti importanti ai più giovani in rosa, buone risposte anche da parte loro, è importante in ottica di crescita fare questo tipo di gare? Beh sì, è quello che dovremmo fare un po' tutti, i ragazzi si sono fatti trovare pronti, Federico in primis perché comunque non aveva mai debuttato in A2, quindi ci tenevo che lo facesse, così come Marco, Nitti e anche Danieri, Andriani che ci sta accompagnando in queste sedute dell'ultimo campionato e quindi ben venga questa situazione perché è su di loro che dobbiamo contare per questo ultimo scorcio di campionato.